Ogni giovedì per l'angolo dell'esperto la nutrizionista dottoressa Antonia Di Caprio conduce in studio Silvia Tamagnini Buongiorno e ben ritrovati, questo è il momento dell'angolo dell'esperto e sono in compagnia della nutrizionista la dottoressa Antonia Di Caprio Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti Antonia di cosa parliamo quest'oggi? Quest'oggi come tutte le prime settimane del mese parliamo della spesa quindi della frutta e della verdura di stagione che appunto troviamo al mercato Sono stata al mercato, ho visto che insomma ce ne sono di cose, c'è un'ampia scelta, un bel periodo per andare a fare la spesa Sì, beh è un periodo in cui troviamo ancora delle cosine invernali ma stiamo avvicinandoci, si spera, alla primavera È vero, è vero, ce lo auguriamo con tutto il cuore L'altro mattino sentivo dell'aria primaverile, favolosa, ma poi chissà che fine farà Eh, dobbiamo aspettare, il mese di marzo come si dice è pazzerello, no? Confermo, guarda che tempo! Allora, comunque, in questo periodo che cosa troviamo? Troviamo ancora delle spremutine di arance, possiamo farci e quindi possiamo ancora fare il pieno di vitamina C e però possiamo anche iniziare ad introdurre le prime cose prettamente primaverili Ovvero? Ovvero, ovvero Dal punto di vista delle verdure possiamo trovare oltre ai broccoli, cime di rapa, cavolfiore che sono appunto ancora cosine un po' più invernali possiamo trovare le cipollotti, i carciofi, il cardo, la catalogna, il crescione ancora del finocchio, l'indivia, il radicchio rosso, il ravanello ma ci sono delle cose in particolari come gli agretti Agretti, le ho sentite tante volte nominati ma devo dire non le ho mai mangiati Sono buoni, sono buoni invece Silvia Poi troviamo ancora gli spinaci e le cipolline novelle Mmm buona, la frittata di cipolline E non solo questo, poi ci sono ancora gli asparagi soprattutto quelli selvatici infatti già ho incontrato degli signori al bordo della strada che vanno con il cestino a raccoglierli Un mio amico ha pubblicato la foto su Facebook infatti con il primo asparago della stagione Bene bene, e adesso poi andremo a vedere piano piano tutte le caratteristiche Vediamo, iniziamo, cominciamo da questi agretti a me tanto sconosciuti Ok, allora, gli agretti, o chiamati anche barba del frate, sono delle piantine giovani La pianta grande si chiama salsola soda Invece gli agretti sono proprio, diciamo, i germogli di questa pianta che arriva anche a 70 cm di altezza Wow, e come mai mi è passata inosservata È un alberone È già, è già Allora, questi agretti sono molto diffusi in Italia, vengono utilizzati tantissimo E possono essere cotti in vario modo, o cotti al vapore, oppure lessati E sono buoni, pensa, anche solamente conditi con sale, olio e un pochino di limone sopra Molto dietetici, eh? Decisamente sì, ma poi sono anche gustosi, eh? Devo provarli, ora sabato andrò al mercato e li cercherò, te lo prometto Bene, benissimo E la caratteristica degli agretti, qual è? Quella di essere ricchi di potassio, di calcio e vitamina C e B3 Poi hanno anche caratteristiche depurative, diuretiche e rimineralizzanti E quindi sarebbe opportuno in questo periodo mangiarli in maniera regolare Ok, quindi possiamo trovare al mercato gli agretti Sì, che è questo nome strano, ma in verità sembra che fanno parte proprio della tradizione italiana Hanno tante proprietà, come al solito, potassio, calcio, vitamina C e B3 E poi soprattutto per noi donne sono diuretici e va benissimo Bene, bene, anche il fatto che sono depurative In questo periodo dobbiamo anche smaltire le tossine dell'inverno e quindi fanno bene In vista soprattutto della Pasqua e dell'estate Ma poi io so che vorrai parlare nuovamente di una verdura che fa tanto bene ai bambini E non solo, sono loro gli spinaci, gli amici di braccio di ferro? Ebbene sì Silvia, ne abbiamo già parlato ampiamente nel mese di febbraio Però diciamo che queste verdure, anche se sono disponibili tutto l'anno Perché si trovano tranquillamente nel banco degli alimenti surgelati Ma anche nelle bustone, che per carità sconsiglio Però si trovano principalmente in questo periodo E soprattutto in questo periodo si trovano quelli con le foglioline piccoline Che possono essere tranquillamente consumati a crudo con una spremuta di limone Infatti come abbiamo detto anche la volta scorsa Quindi per la spesa di febbraio Gli spinaci sono ricchi di ferro Però questo ferro diventa difficile per il nostro organismo essere assimilato Se condiamo gli spinaci con il limone Quindi in abbinamento con la vitamina C Riusciamo, il nostro organismo riesce ad assorbire più agevolmente questo ferro E poi la caratteristica che sono antiossidanti E appunto sono anche ricchi di acido folio Che fanno bene alle future mammine Ma poi se mi ricordo male e correggimi Sono anche oltre a essere ricchi di ferro Hanno anche molto calcio, è giusto? Sì, contengono anche calcio Però l'abbinamento di ferro e calcio Rende appunto difficile l'assimilazione per l'organismo del ferro in particolare Quindi quando faccio la mia ricetta Gli spinaci ripassati in padella Con parmigiano, mozzarella Diciamo che non è delle migliori ricette No, se li condisci con un pochino di limone è meglio E come alzare se non mi smentisco mai? Bene, andiamo avanti Parliamo ora delle cipolline che io adoro Buone, però mi raccomando Prima di mangiarle mettetele un pochino a bagno Perché se no poi sono difficili da digerire Un pochino sì Silvia Allora, le cipolline sono simpatiche Perché possono essere mangiate anche crude E hanno in questa maniera Mantengono tutte le loro proprietà Sia nutrizionali E comunque possono essere Oppure possono essere anche Semplicemente scottate Per poter essere utilizzate poi in agrodolce Però mantengono sempre un sapore che è particolare Non saprei come definirlo in questo momento Quindi particolare Il loro sapore è di cipolla Giusto? Però è un sapore diverso rispetto alle cipolle grandi Che alla fine questi cipollotti Che cosa sono? Sono semplicemente le cipolle bianche Che vengono raccolte molto presto Prima che diventino delle vere e proprie cipolle Antonia ti interrompo Ma quindi ce le consigli di mangiarle Come si dice la ricetta in agrodolce O anche quando si trovano sotto aceto Quelle piccoline buone Che servi come aperitivo? Sì, fanno bene Ovviamente se poi sono mangiate a crudo Magari dentro un'insalatina Fanno ancora meglio Perché come dicevo Mantengono tutte le loro proprietà nutrizionali Che sarebbero Sono un'ottima fonte di vitamina B Di vitamina C Di acido folico e anche di fibre E poi contengono tantissimi antiossidanti Che aiutano anche a proteggere l'organismo Da alcune forme di cancro E dalle malattie cardiovascolari Cioè se noi mangiassimo tanta frutta e verdura Io sto imparando grazie a te Potremmo prevenire tantissime malattie Sì Silvia Come abbiamo detto sin dall'inizio Che la nostra prima medicina È proprio il mangiare bene È la tavola E su questa grande massima Su questa importante scoperta Ci fermiamo qualche istante Perché ora c'è la pubblicità Ma rimanete qui sui 101.2 Perché proseguiremo a parlare Della verdura e frutta Di stagione del mese di marzo A fra poco Ed eccoci nuovamente È il momento dell'angolo dell'esperto Oggi è giovedì È il giorno in cui c'è ospite La nutrizionista La dottoressa Antonia Di Caprio E stiamo parlando della frutta e verdura Di stagione ovvero del mese di marzo Di tutto quello che possiamo trovare nel mercato Abbiamo parlato degli agretti Degli spinaci Delle cipolline Ma ora è il momento degli asparagi Allora Silvia Gli asparagi sono ortaggi Principalmente Prettamente primaverili Sono teneri e succulenti Ma hanno tantissime proprietà benefiche Una chicca L'Italia insieme a Francia e Germania Sono i maggiori produttori a livello europeo Ma noi diciamo Quelli che ci interessano Sono quelli che si vanno a prendere Proprio al campo Con il cestino E sono quelli che hanno Appunto conservano tutte le loro caratteristiche Le loro proprietà Quindi approfittatene Magari cominciano le belle domeniche Dove l'aria sembra un po' più umide Il sole Comincia a fare capolino Per andare a fare un bel picnic Con tutta la famiglia Quindi una bella passeggiata in campagna A respirare dell'aria pulita E magari anche andando facendo O andando alla ricerca degli asparagi E sì Allora Gli asparagi sono un vero e proprio portento Di nutrienti benefici Per il nostro organismo Infatti sono ricchi di fibre Di acido folico Vitamine In particolare vitamina A C ed E E presentano poi un contenuto Enorme di sali minerali Tra cui il cromo Che è un minerale Che permette di migliorare La capacità dell'insulina Di trasportare il glucosio Dal sangue All'interno delle cellule Quindi va a diminuire Quello che è proprio lo zucchero In termini in soldoni proprio Lo zucchero Dal circolo sanguigno E lo mette all'interno delle cellule Dei muscoli in particolare Quindi gli asparagi Sono fra gli alimenti Indicati per la prevenzione Del diabete di tipo 2 Inoltre sono in grado Appunto Favoriscono la produzione di insulina E diminuiscono quindi Il glucosio E lo zucchero Nel sangue Già da quello che hai detto Insomma Bisogna assolutamente consigliarli Vanno assolutamente mangiati Io poi ne conosco altre Di proprietà Che credo che fra poco Andrai a denunciare Perché sono tante Le qualità Che hanno Questa semplice Estrana Questa semplice Estrana verdura Dall'ostello lungo E da un similfiore Sulla testolina Sì Sono molte Appunto Le proprietà benefiche In particolare Gli asparagi Insieme ad altre Frutte e verdura Come l'avocado I cavoli I cavolini di Bruxelles Sono ricchi di una sostanza Che se vuoi ti dico Ma potrei anche Tralasciare Se no diventa un'altra parolaccia Che è utile A favorire La depurazione Del nostro organismo E quindi Appunto In questo periodo In cui Dobbiamo disintossicare Il nostro organismo Dalle Tutte le scorie Le tossine Che abbiamo accumulato Durante l'inverno Possiamo Assumendo Mangiando Gli asparagi Ci andiamo a liberare Di queste sostanze dannose E anche di alcuni componenti Di alcune molecole Che potrebbero diventare Cancerogene Antonia ti interrompo Perché io credo Che è una cosa Talmente evidente Quando vai al bagno A fare la pipì Che hai mangiato Gli asparagi Scusate Che proprio dici Devo essermi Completamente depurata Hai ragione Silvia Hai perfettamente Ragione Anche solo Mangiando risottino Con qualche puntina Di asparago Risulta evidente Allora Un'altra Caratteristica Degli asparagi È quella Come appunto Appena finito di dire Della prevenzione Di alcune forme Di cancro Per esempio Cancro alle ossa Al seno Al colon Alla laringe E ai polmoni Quindi cerchiamo Di assumere Anche questo tipo Di verdura Che sicuramente Male non fa Al nostro organismo Poi sono ricchi Di antiossidanti Che contrastano E quindi Vanno a contrastare Anche i segni Dell'invecchiamento Ottimo Quindi l'altra volta Abbiamo visto Che era il pompelmo Che faceva bene Per via del collagene E ora abbiamo scoperto Che anche le asparagi Combattono i segni Dell'invecchiamento A buon intenditore Poche parole Sì comunque Tutta quella frutta E verdura Che in particolare Hanno un colore Dall'arancione al rosso Per esempio Il radicchio rosso Le barbabietole Danno tutti Questo supporto Perché sono ricchi Di antiossidanti Quindi sono Quelle sostanze Che vanno Ad impedire Ad alcune Ad altre sostanze Di aggredire Le cellule E quindi impediscono L'invecchiamento La morte precoce Delle cellule È un discorso Un po' difficile Però spero di essere Stata abbastanza chiara Antonia L'importante è che abbiamo capito Che vanno mangiati Poi E che fanno bene Poi Che fanno bene Contrassano l'invecchiamento Fanno bene Per le nostre Parti del corpo Per la nostra salute L'importante è quello Poi entrare troppo Nel merito Sta a voi specialisti Insomma A spiegarci Quali sono I loro effetti Benefici Però Noi L'importante è che Abbiamo capito Che dobbiamo Mangiarli E non è finito ancora Qui Silvia Wow Allora Oggi facciamo l'elogio Agli asparagi L'altra volta L'abbiamo fatto Che era il kiwi Al kiwi tantissimo E se non sbaglio Anche al pompelmo Stesso Pompelmo E anche al limone Giusto Giusto Allora Un'altra proprietà Benefica Degli asparagi E' quella di Andare ad aiutare Il nostro cervello A contrastare Il declino cognitivo Che è importantissimo L'acido folico Infatti Che è contenuto All'interno Degli asparagi Permette La prevenzione Di disturbi Che potrebbero Appunto Andare ad affliggere Quello che è La sfera cognitiva Inoltre Contengono Un amminoacido Che è chiamato Asparagina Questo è facile Ed è quello È la causa Di quello Che dicevi tu Prima Cioè Contribuisce Ad avere L'effetto Diuretico Naturale Degli asparagi E quindi Andare a Respellere Tutte quelle Che sono Le sostanze In eccesso In particolare Il sodio Quindi Fa bene Anche E soprattutto A noi donne Che abbiamo Problemi Di ritenzione Idrica Di edema E anche Perché soffre Di ipertensione Quindi Oltre a Contrastare Le rughe Quindi L'invecchiamento Della pelle Problema maggiore Gli inestetismi Cutanei Della cellulite Quindi Forza Tutti a fare La cura Di asparagi Ma questi Inestetismi Tante volte Però Silvia Sono anche dovuti Al fatto Che noi siamo Troppo Poltroni E quindi Ecco I fossetti Che si formano Quindi Mi raccomando Forza Tutti a mangiare Asparagi A farsi Una bella Corsetta Giù al mare O in bicicletta Brava Silvia Allora Un'altra caratteristica Degli asparagi È che presentano Un altro Minerale Molto prezioso Oltre al cromo Che è il potassio Che regola Quella che è la Pressione sanguigna Anche il funzionamento Dei muscoli Compreso il cuore Che è un muscolo E quindi È indicato anche Nella prevenzione Delle patologie Cardiocircolatorie Un'altra caratteristica Ancora È quello che In associazione Con il topinamber Ne abbiamo già parlato Ha effetti positivi Anche per il nostro Apparato digerente Infatti Se vi ricordate Il topinamber Contiene L'inulina Che è Una tipologia Dei carboidrati Che Arrivati In contatto Con Con L'intestino Diventa Il nutrimento Per la flora Batterica intestinale E quindi Va a migliorare Tante Diciamo Quello che è Anche le nostre Difese immunitarie Quelle che sono Le nostre Difese immunitarie E quindi Diventa anche Un Un vero e proprio Antinfiammatorio Naturale E diciamo Oltre questo Altre Altre Caratteristiche Non ne troverei Anzi Antonia Credo che Veramente Abbiamo fatto Un elogio Agli asparagi Bene Io spero Che abbiate preso Appunti Che Abbiate focalizzato Quelle che sono Le proprietà Di questa Di questo tipo Di verdura Che potrete Trovare al mercato O tranquillamente Nei campi Ci fermiamo Qualche istante Ma rimanete qui Su 101.2 Perché Enuncieremo Altre tipologie Di verdura Che si trovano Ora in questo momento Al mercato Ma poi passeremo Anche a parlare Della frutta Di stagione A fra poco Eccoci nuovamente In studio In diretta Dagli studi Di Radio Stella Città 101.2 Qui a Torre Europa È il momento Dell'angolo Dell'esperto Abbiamo appena Ascoltato Il radiogiornale Che ci informava Su quello che succede A Civitavecchia Nel suo comprensorio Ma stiamo parlando Della frutta E verdura Del mese di marzo Di tutti quei prodotti Che possiamo trovare Al mercato Abbiamo appena Concluso Un importante Approfondimento Per quanto riguarda Gli asparagi Proseguiamo Con l'elencare Quelli che sono Gli altri prodotti In maniera così Facendo una carrellata Che possiamo trovare Se andiamo a fare Appunto La spesa Allora Silvia In questo periodo Come abbiamo detto All'inizio Troviamo ancora Delle verdure Prettamente invernali Però Diciamo che È un po' un mix Troviamo infatti La barbabietola rossa Il broccolo La cicoria Le carote Il sedano I fagioli La zucca Il radicchio E il finocchio Il cavolfiore Il carciofo Il porro Il cavolo verza La rapa Il topinamber I cavolini Bruxelles E la bietolina Abbiamo solo Abbiamo solo L'imbarazzo Tante tante cose Tante tante cose E sì Perché come dicevo All'inizio Possiamo ancora Gustarci le ultime Spremute di arancia Però ci sono anche Tante altre Tante altre frutte Come il kiwi Il cedro Ancora troviamo Le mele Le pere Le banane Ma non solo Perché troviamo ancora L'avocado E il lime Il lime Wow Credo che lo conoscete Un po' tutti Perché è l'ingrediente Fondamentale Di molti cocktail E sì Ebbene sì Hai proprio ragione Silvia Allora Iniziamo però A parlare dell'avocado Buono O un frutto Che viene Dall'America Latina Chi l'ha mangiato Lì sul posto Dice che è una cosa Favolosa Non è come quello Che arriva da noi Purtroppo No Decisamente Tutta la frutta Che arriva da noi Come abbiamo già detto Altre volte Viene trattata Viene raccolta Molto acerba E si matura Poi nelle celle frigorifere O a seguito Di trattamenti Quindi Tutta la frutta Ma anche le semplici Banane Che noi mangiamo Non hanno assolutamente Nulla Che vedere Con quelle che si mangiano Nel loro luogo D'origine E invece L'avocado Come dicevi È originario Di una vasta Zona geografica Che va dal Messico Dalle montagne centrali Occidentali Del Messico Attraversa Il Guatemala Fino alle coste Dell'Oceano Pacifico Nell'America centrale L'avocado È un albero Molti non lo sanno Ma arriva fino a 15-20 metri Di altezza E poi ha questo C'è questo frutto Che ha una forma Un po' allungata Che sembra una pera A me pensa Che l'ha fatto Scoprire Proprio una ragazza messicana Una mia amica messicana Una sera Mi ha invitato a cena Mi ha fatto una frittata Una frittata di avocado Non l'ho mai mangiata La frittata di avocado E mi incuriosisce Veramente tanto Devo avere Mi devi dare la ricetta Antonia La prossima volta La voglio Sì Farò Comunque Guarda Semplicissimo Ed era veramente gustosa Perché poi è un piatto Che noi non ci saremmo Neanche mai immaginati Di abbinare Le uova con un frutto E invece Era proprio buona Comunque Anche l'avocado Ha delle ottime caratteristiche Infatti È un ottimo idratante Per la nostra pelle In quanto C'è quest'olio Che appunto Si ricava Dalla polpa E quindi fa bene La nostra pelle Approfittiamo anche di questo Ma si può anche utilizzare In cucina In tantissimi modi E non solo Appunto Come dicevo Come piatti rustici Ma anche nelle macedonie Insieme ad altra frutta Oppure può essere aggiunto All'insalata Una lattuga fresca Con l'avocado Confermo Confermo È mia usanza Fare l'insalata Con vari ingredienti Dove si mette l'avocado Si possono mettere anche le noci Che è frutta secca E fa bene Ci si possono mettere Le olive Il mais I pomodori Insomma Chi più ne ha più ne mette L'avocado con questo suo sapore particolare A volte rende omogenee E attutisce Quelli che sono Magari I vari odori Che abbiamo inserito Nell'insalata E si Poi comunque ha tantissime caratteristiche È un alleato Dell'apparato cardiaco Del sistema nervoso Del fegato Del colon Della pelle Dei capelli E degli occhi Wow Io dico wow Perché veramente Anche qui abbiamo scoperto Un elenco infinito Di proprietà Di un frutto Che magari Non tutti hanno assaggiato Di questo sono sicura No Non tutti Portano in tavola Questo tipo Di frutta Le proprietà Dell'avocado Adesso entriamo Un po' più In merito È un'ottima fonte Di calcio E potassio E contiene anche Notevoli quantità Di fibra E grassi monoinsaturi Che sono utili Per contrastare Il diabete E anche proteggere Il nostro cuore E poi è in grado Anche di riequilibrare Molto rapidamente Quello che è Il livello Del colesterolo Cattivo Ovvero LLDL Infatti Tutti quanti I grassi vegetali Che si trovano All'interno Di questo avocado Di questo frutto Riducono I tempi di permanenza Del colesterolo Nel sangue E quindi si ha Un beneficio Non solo a livello Del circolo sanguigno Del cuore Ma anche Della pressione arteriosa Che chi più ne ha Più ne metta Anche in questo caso Veramente Non scordiamo Impariamo A conoscere questo frutto Dopo vi dirò Guarda Anzi La ti voglio dire subito Io faccio una salsetta Che ho imparato Quando ci vivevo in Spagna Il cosiddetto guacamole Che trovate Nei ristoranti messicani È una prelibatezza La potete utilizzare Per mangiarci Tanti altri prodotti O se volete fare anche Un aperitivo gustoso E differente dal solito Prendete i nachos Che sono quelle patatine Di mais Che comunque Non sono salate E le degustate Proprio con questa salsa Di guacamole Vi dico che Il successo Per un aperitivo In compagnia di amici È assicurato Bene Silvia E comunque Non è finita qui Perché l'avocado Ha ancora tante Tante caratteristiche Ha tantissime vitamine In particolare La vitamina A Che è utile per la vista La vitamina B1 Che è un antinevritico Cosa hai detto Non lo ripeto più Troppe parolacce La vitamina B2 Che è importante Per la crescita E per il benessere Inoltre ha vitamina D E K H E PP Mai fatto l'alfabeto Delle vitamine Non sono io È colpa dell'avocado Silvia E vabbè Vuol dire che Pensate all'avocado E pensate all'alfabeto Delle vitamine Quindi Quindi un motivo in più Per andarla a cercare E poi Un'altra caratteristica È quella che fa Molto bene Anche ai bimbi Che come dicevamo Qualche tempo fa Seguono una dieta Vegetariana Anche ancora altre Proprietà Aromatiche Digestive Aiuta a combattere La dissenteria Essendo appunto Un astringente Ecco Questa forse è l'unica Cosa negativa Che hai detto Finora visto il problema Che abbiamo spesso Noi donne Ovvero Se Un po' di giorni Che Tutte mi avete capito Magari evitatelo Dopo che È Allora Magari potete Assimilarlo Giusto? Giusto Vabbè Comunque Una Rispetto a tutte Le proprietà Benefiche Insomma Dai Va benissimo Bene bene È il momento Dell'angolo dell'esperto Ci fermiamo Qualche istante Che andiamo In pubblicità Ma rimanete Qui sui 101.2 Perché Altre Proprietà Di altri Frutti Andremo A scoprire Antonia Abbiamo Enunciato Elogiato Gli asparagi E l'avvocato In questo appuntamento E non solo Però Loro sono stati I protagonisti Di quest'oggi Ma io so Che ce n'è Un terzo Un terzo Che tutti Conoscono Che l'estate Patroneggia Fa parte Dei cocktail Di molte ricette È L'amico Di tanti Barman Di chi stiamo parlando Stiamo parlando Del lime Silvia Che è un Appunto Come dicevi È molto usato Per la preparazione Dei cocktail Ed è un agrume Sembra che sia Un incrocio Un ibrido Fra il cedro E il limone La sua caratteristica Appunto È Che ha Questo profumo Che È comunque Molto fresco Dà proprio Il senso Dell'estate Poi In alcuni cocktail In abbinamento Con la menta Dà ancora più Esalta ancora più Questa freschezza E poi Viene anche Molto utilizzato Nell'industria Cosmetica Come profumo Questa forse È una caratteristica Che non tutti Non tutti Conoscono Però anche Nell'industria Cosmetica Viene molto Utilizzato Ma ultimamente Diciamolo Lo si Percepisce Di più In molte Pubblicità In Per quanto riguarda Creme per il viso E creme per il corpo O per la sua fragranza Ma anche per quelle Che sono le sue Proprietà Guarda Ultimamente Credo che lo stanno Cominciando a farlo diventare Stanno cominciando A renderlo Anche a lui Un protagonista Sì ma anche perché Abbiamo visto Che con tutte le caratteristiche Del limone Essendo Il lime Un incrocio Con limone E cedro Ha anche lui Le sue buone Proprietà Che favoriscono Appunto La nostra salute E il nostro benessere Ovvero Guarda Ora mi ha incuriosito Immagino che sarà Ricco di vitamina C Eh Ovviamente Sì È ricco di Vitamina C E sali minerali Come un po' Tutti gli altri Gli altri Agrumi E poi È un naturale Antiacido Gastrico E favorisce quindi La digestione Ha inoltre Proprietà toniche Rinfrescanti Antisettiche E antibatteriche Quindi Anche lui Fa parte della famiglia Delle antibiotici Naturali Eh sì Silvia E poi comunque Lo possiamo utilizzare In tantissimi modi In cucina Soprattutto In sostituzione Del limone Nelle macedone Oppure nei piatti di pesce Beh sì perché È un pochino Meno Come possiamo dire Asprognolo Rispetto Rispetto al limone Il lime Rimane Leggermente Meno acido Come possiamo definirlo Sì è meno acido Sì è un po' più dolce Comunque È molto profumato Anche il lime E comunque Non vorrei dimenticare Che non è stato menzionato Quando io parlavo di cocktail È il mitico Mojito Il cocktail più richiesto Dal popolo italiano Ecco E lui La fa da protagonista Se tu Non hai a disposizione Un lime No mojito No lime No mojito No e poi comunque Vabbè Avendo detto Che c'era anche L'abbinamento Con la menta Non poteva essere Che il mojito Senti Antonia Ma quindi Abbiamo visto Quella che è La verdura In generale Che troviamo Al mercato Andiamo a fare Anche ora Un elenco Di quelli Che sono I prodotti Che possiamo Andare a comprare Al mercato Perché sappiamo Che effettivamente Sono di questo periodo Ebbene sì Facciamo una rassegna Della frutta Che si trova In questo periodo Ancora troviamo Gli agrumi Come arance Mandarini E mandarancio Le pere Il kiwi Il melograno Ancora qualche cachi Ma poca roba La frutta secca Il pompelmo E anche il limone Quindi Insomma Anche in questo caso Ne abbiamo tante Di scelte Quindi se vogliamo Mangiare In maniera variegata Ovvero Vogliamo variare La distribuzione Dei cibi Lo possiamo fare Perché c'è veramente L'imbarazzo Della scelta E sì Poi comunque Se vai a vedere La maggior parte Sono tutte Prodotti Che contengono Tanta vitamina C Quindi fanno ancora bene Al nostro organismo Vanno a rafforzare Quelle che sono Le nostre difese immunitarie Dato il periodo E poi comunque Fanno bene Perché è sempre Frutta E verdura Di stagione Soprattutto se poi La prendiamo Dai nostri posti Antonia Senti C'è rimasto a disposizione Ancora qualche altro minuto So che oggi Volevi anche dare Qualche consiglio Su come combattere I raffreddori Che ci colpiscono In questo periodo Particolare Ovvero marzo Dove non è Né ancora Primavera Né anche Ancora inverno Spesso magari Uno comincia A scoprirsi E è il periodo In cui tutti Cominciano a stannutire Ci sono appunto I raffreddori Di stagione E tu ci vuoi Consigliare qualcosa Per combatterli È vero? Sì Silvia Ovviamente Questo è il periodo Appunto Come dicevi In cui non fa Né tanto caldo Né tanto freddo Non si sa Come vestirsi Poi marzo È pazzerello E quindi Poi c'è ancora L'influenza Che gira E di conseguenza Ci ammaliamo Invece no Io volevo dare Alcuni piccoli consigli Per andare A rafforzare Quelle che sono Le nostre difese Immunitarie Per esempio Delle tisane A base di Tè verde Che è Un antibatterico Ed ha Anche Un effetto Drenante E antiossidante Quindi fa bene Un po' A tutto La salvia È un altro Di questi Odori Come si chiamano Che Anzi Viene proprio considerata Una pianta medicinale La salvia Che ha proprietà Antibiotiche Ed è un valido Rimedio Anche per il mal di gola Quindi facendo una tisana Di salvia Riusciamo anche A combattere Quello che è Il mal di gola La raucedine E tanti altri problemi Infatti Se noi mettiamo Nell'acqua bollente Alcune foglie di salvia E la lasciamo in infusione Per 15 minuti Possiamo utilizzarla Per fare dei gargarismi Appunto Per combattere Lenire il dolore Alla gola Per me Fondamentale Visto il lavoro Che faccio Ok Da oggi in poi Vado a comprare la salvia Comincio a fare Un po' di gargarismi Visto che poi Gli abbassamenti di voce È tipico Prepari l'orto Sul balcone Silvia Allora Un'altra pianta Che ha qualità Terapeutiche È lo zenzero E noi in particolare Andiamo ad utilizzare La radice Se non erro Sì sì È la radice di zenzero Che puoi trovare tranquillamente Sia al mercato Perché l'ho vista Che anche ai supermercati Si trova È frequente La metti lì Da parte Ti dura anche Per un bel po' E sì Insieme alla salvia E al tè verde Forse lo zenzero Viene meno conosciuto Come pianta Infatti È più nota La radice Che serve appunto Per preparare L'infuso E con questo Andiamo a curare La tosse E il raffreddore Ma anche Nausea E vertigini E poi è un Antinfiammatorio E digestivo Quindi anche lo zenzero Ha tante qualità Un'altra pianta È l'origano Che ci viene A nostro vantaggio In questo In questo periodo Che non solo Ha un buon odore E in cucina Può essere utilizzato Ovunque Perché è ricchissimo Di antiossidanti E va bene Anche per La preparazione Di infusi Contro la tosse Contro le emicranie Disturbi digestivi E dolori Di natura reumatica Anche qui Un bel elenco È notevole Anche qui Quelle che sono Le proprietà E sì Bene sì Senti rapidamente Ultima battuta Perché è finito Il tempo a disposizione L'aglio L'aglio Io so che L'aglio pure Se tutti lo odiano Fa bene È vero È detto bene Silvia L'aglio È l'antibiotico Naturale per eccellenza Lo diciamo sempre Purtroppo C'ha questo odore Che è un po' Sgradevole Però rafforza In modo naturale Il sistema immunitario E poi è ricco Udite udite Di vitamina C E vitamina B6 Quindi mi dispiace Una piccola cura D'aglio Andrebbe fatta Magari vi chiudete Per un giorno Anche due Facciamo Perché è il tempo Di smaltirlo A casa Però vi fa Imbottite di aglio E siamo sicuri Che potrete stare Meglio Poi ci abbinate La tisana All'origano Che migliora La digestione Perfetto Perfetto Ma senti Ma la tisana D'aglio Non esiste Insomma Prendiamo l'aglio Così Che è meglio Intero Voglio andare In erboristere E voglio chiedere Ma che fate Le tisane Con l'aglio No Mi devo morire Dalle risate Addio Però lo chiederò E ti farò sapere Tienici informati Allora Silvia Bene Come sempre Io ti ringrazio Gentilissima Per i tuoi Tanti consigli Sul mangiare Bene Perché questo Non può far altro Che far prevenire Quelle che sono Le malattie Croniche Anche quelle brutte E ci permette Insomma Di sentirci meglio Sia con noi stessi Che con gli altri Perché quando tu stai bene Stai bene anche con gli altri Silvia Hai ragione Come sempre Io ti saluto E saluto tutti quanti Grazie Antonia E la dottoressa Torna il prossimo giovedì Come sempre All'interno Dell'angolo dell'esperto E con me Ci sentiamo Domani mattina Con la rassegna stampa Ciao